In bilico la maggioranza al Consiglio Comunale di Polla e di conseguenza la poltrona del Sindaco Massimo Loviso. Tiziana Medici, Presidente del Consiglio Comunale, chiede chiarezza sulla posizione assunta dal Vice Sindaco Rocco Giuliano che ha ufficializzato il suo passaggio al centro-destra e dal prossimo Consiglio Comunale chiederà la costituzione del gruppo di centro-sinistra. È doveroso da parte mia, si legge nel comunicato a firma della Medici, in questo clima elettorale avvelenato e confuso chiarire con forza che la presenza del centro-sinistra a Polla è forte e presente. Non condivido e per questo chiederò chiarezza la posizione assunta dal Vice Sindaco Giuliano che ha ufficializzato il suo passaggio al centro-destra. Dal prossimo Consiglio Comunale è necessario costituire il gruppo di centro-sinistra. La lista Pollesi per Polla, spiega la Medici, si è presentata alle ultime elezioni politiche con una chiara connotazione politica, ovvero di centro-sinistra, e non è ammissibile che ora qualcuno sbandieri la propria appartenenza al centro-destra. Per Gennaro Connelli, assessore della maggioranza, non c'è bisogno di alcun nuovo gruppo di centro-sinistra perché già nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale è stato chiarito che la maggioranza è di centro-sinistra. Di diverso avviso invece Walter Venosa, responsabile del Partito Democratico Cittadino, che invece ha sottolineato la necessità di creare un gruppo che faccia riferimento al centro-sinistra all'interno della maggioranza per differenziarsi da chi di centro-sinistra non è più. Il riferimento ovviamente a Rocco Giuliano. Si preannuncia quindi una primavera infuocata per l'amministrazione di Polla e la resa dei conti inizierà subito dopo le elezioni regionali.